Non ce la faremo ragazzi, non ce la faremo, c'è niente a fare Sì, un pitinin di miglioramento ieri sera Ho fatto solo allenamento di tempo Siamo scesi sotto il 2.20 Però qui ragazzi l'obiettivo primario è veramente costanza Costanza è evitare le penalità, secondo me La questione è critica Faccio fatica, faccio fatica Bellissimo il circuito, veramente bello, stupendo Vabbè ma lo devo dire io che è bello, è stupendo Col TCS1 mi sta mettendo in grande crisi ma molto bene Bene così, stiamo prendendo le indicazioni funzionali del TCS1 Però ti vi dirò che su un circuito come questo 8 decimi dalla pole position mi riempiono di gioia ed entusiasmo Peccato per sta cazzo di epicondilite che continuo a rompermi i coglioni in maniera incredibile A braccio destro Abbiamo una GT, una Ford in pole position con una Ferrari in prima fila Prima fila anomalissima Due macchine che gruppo 3 a Gran Turismo raramente vedi Nei primi posti quantomeno Ma non è che cazzo ce ne frega tanto Siamo dietro E soprattutto abbiamo davanti lo Svizzero con la Ferrari Io come al solito mi prendo il mio bel secondo 2 Ti distacco da quello che ho davanti Ehm, vai tu! Ehm, vai tu! Ma che cazzo fa, Iron? Ma non! No, vai! Dai, di nuovo concentrato subito, Marco Che avevi fatto? Buon minuzio Grazie a tutti. Ho avuto paura di allargare, gli sto dietro come un'ombra, non faccio la traiettoria giusta come un piccio. C'è ten giù, c'è ten giù. Grazie a tutti. No, tagliarla così, come un imbecille, manco. Ah, ragazzi miei, ragazzi miei. Ah, l'ho fatta di merda. Ah, l'ho fatta di merda. Ma non permi voglioni allo rouge vecio, te col Svizzero, col Ferrari. Succede poi che... Il cruco va via. Alla bene una volta questa, manco. No. No. È fatta di merda. No. 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 No.